Amici dello sportello del cittadino, questo sportello lo registro con rabbia, sono incazzato nero, mi trovo a Taranto, presso la rampa Leonardo da Vinci, a pochi metri dall'ingresso del circolo sotto ufficiale, una zona splendida perché la rampa qui porta all'affaccio, lo vedete, l'affaccio al mare e poi girando a destra c'è appunto la fermata, la banchina dalla quale ci si imbarca per le isole Cheradi, per San Pietro, attraverso le due motonavi Clodia ed Adria. Ma al di là di questo, una zona splendida che turisticamente ci invidiano tutti, ma ci troviamo nel degrado più assoluto qui sulla rampa Leonardo da Vinci. Erbaccia, sporcizia, merda, ecco, merda, scusate l'espressione volgare, ma che rende l'idea appieno. Ho sottolineato, ho sottoposto migliaia di volte all'attenzione dell'amministrazione comunale questa situazione, mi è stato detto più volte sì interverremo, ma di fatto non vi è stato alcun intervento. Parliamo di una situazione che io puntualmente sto riportando, sto riprendendo da anni, anni, è incredibile. Addirittura qui, in questa situazione incredibile, tra erbacce mai viste, qui vedete si parcheggia e la macchina e l'automobilista per uscire dal proprio abitacolo si imbatte, entra nell'erbacce per così dire. E quando chiude la portella parte dell'erbacce entrano nell'abitacolo, per non dire poi di rifiuti gettati ovunque, ma i rifiuti, per quanto riguarda i rifiuti c'è da sottolineare l'inciviltà dei cittadini, ma l'erbaccia non è certo colpa dei cittadini. Topi, topi morti, come si vede dalle immagini, topi morti. Siamo dovuti intervenire e abbiamo sottolineato la problematica e i topi sono stati rimossi, ma qui è rimasto lo schifo. Qui a Taranto, in questa zona, si svolgeranno tra la fine di settembre e i primi di ottobre delle riprese cinematografiche. Sarà un set, è bellissimo, ma vedete c'è il cartello che dice lasciare libero il transito, lasciare libero l'area dove naturalmente si parcheggia, proprio per far sì che le apparecchiature per le riprese cinematografiche possano essere posizionate qui. Quindi Taranto che si apre al cinema diventa un set cinematografico in che cosa? In una zona di, lo devo dire, di merda. Questa è la verità. Non scandalizzatevi, non scandalizzatevi, non scandalizzatevi delle parolacce, ma scandalizzatevi dei topi morti, scandalizzatevi dell'idefficienza amministrativa, scandalizzatevi dell'erbacce, dello schifo. Stiamo parlando di una zona centralissima, di un affaccio al mare con una veduta turistica mozzafiato e non si è capaci di tagliare l'erba. Mi rivolgo, ho già sottolineato la situazione mesi fa al vice sindaco Tilger, sento l'assessore al verde, all'ambiente, ci dicono, ma si stanno preparando, si stanno espletando le varie gare per l'assegnazione dell'appalto per la cura del verde. Sì, va bene, ma nell'attesa che si assegni o non si assegni, noi dobbiamo stare nello schifo? Fatemi capire. Dobbiamo avere i topi morti? Ma questo è turismo? Ma questo è marketing territoriale? Rispondetemi per cortesia, rispondetemi. Io non ce l'ho con l'amministrazione Melucci, perché ho bacchettato tutte le amministrazioni, incominciando dall'amministrazione Cito, all'amministrazione De Cosmo, all'amministrazione Di Bello, all'amministrazione Stefano. Non ho mai fatto sconti a nessuno e sono in grado anche di bacchettare sonoramente questa amministrazione, perché non è possibile, questa è ordinaria manutenzione, in una città civile. E in questo modo Taranto, purtroppo, per come è amministrata, non si dimostra una città civile. Va bene? Di queste cose si occupa l'ultimo delegato di quartiere, chiamiamolo così. Ma stiamo scherzando? In pieno centro, con un affaccio al mare, in una zona turistica, con le riprese cinematografiche? Noi ci troviamo l'erbaccia. Ma stiamo dando i numeri. E allora, signori cari, avete visto il cartello? Tra qualche giorno inizieranno le riprese. Non so se per quella data l'erbaccia sarà stata rimosso o meno. Sta di fatto che stiamo dando il peggio dell'immagine turistica. E allora, Assessore Tilger, io la stimo. Lei è una persona che ci mette buona volontà e impegno, però, dalle parole, dall'iperuraneo delle idee, dei comunicati stampa, detta la tarantina maniera, amma quaglià. E quagliare significa togliere questo schifo. Avete visto il topo morto? Avete visto tutto il degrado che c'è? Scusate, quello che sento lo devo dire, anche se in maniera volgare questa volta. Poi uno sbotta. Ma scusate, ma scusate. Mi sa che veramente era impensabile fare peggio di Stefano. Mi sa che ci state riuscendo, signori amministratori. Non ho altro da dire. Ho le scatole proprio girate.